Hai 10 secondi per iscriverti al canale con la campanella, lascia un like a questo video e iscriverti al canale nella descrizione se anche tu vuoi partecipare alle mie money lobby su GTA 5 Online per tutte le piattaforme PS4, Xbox One e PC dove ti potrò droppare soldi automoddate dove ti potrò far aumentare di rango gratuitamente Benvenuti a tutti in questo nuovo video qui Minty Place e oggi siamo qui in questo nuovo video su GTA 5 Online dove oggi vi mostrerò come ottenere totalmente gratis soldi su GTA 5 Online con due metodi veramente molto semplici e veloci per ottenere soldi infiniti ed RP su GTA 5 Online senza nessun glitch e senza nessun bug quindi dei metodi veramente veramente molto facili e accessibili a tutti i giocatori di GTA 5 Online questo video qua durerà veramente pochissimo perché sono veramente metodi velocissimi per guadagnare tantissimi milioni su GTA 5 Online io direi di iniziare subito con il primo metodo il primo metodo ragazzi per ottenere questi soldi qui in questo caso come vedete ecco qua vi servirà solo l'auto officina quindi come vedete grazie all'auto officina potete ottenere veramente veramente tantissimi soldi su GTA 5 Online perché cosa dovrete fare come sapete su GTA 5 Online se avrete un'officina vi arriveranno delle auto in automatico come vedete nell'auto officina che potrete tranquillamente modificare e poi vendere comunque se non avete l'auto officina perché Amazon Prime può ottenerla totalmente gratis quindi Amazon Prime è gratuito per 30 giorni potete in questo caso usufruirne e poi potete comprarvi l'auto officina su GTA 5 Online gratuitamente quanti soldi si guadagnano? si guadagna esattamente fra gli 80 mila dollari in questo caso con i veicoli un po' di una fascia un po' più alta invece anche con una fascia un po' più media tra i 60 mila dollari in veramente 5 minuti neanche ragazzi quindi è veramente un buonissimo metodo per ottenere in questo caso soldi quindi cosa dovrete fare come vedete una volta che avrete modificato l'auto dovrete consegnarla all'acquirente è veramente molto semplice perché come vedete nella sessione basta che andrete in una sessione sola di inviti e poi una volta che sarete nella sessione sola di inviti non ci sarà nessun nemico nessun giocatore a disturbarvi quindi potete tranquillamente completare queste vendite e vendere queste auto qui senza nemmeno un graffio come vedete il pagamento sarà di 25 mila dollari vedete eccolo qui attenzione arriveremo a 60 mila dollari perché dovremo sommare anche le somme che abbiamo speso per modificare l'auto quindi in questo caso otterremo in totale 60 mila dollari quindi è veramente un buonissimo metodo per ottenere in questo caso 60 mila dollari in veramente veramente pochissimo tempo quindi come vedete manca veramente mancano veramente pochissimi chilometri quindi come vedete eccoci qua siamo vicini a consegnare il veicolo all'acquirente come vedete le posizioni non sono nemmeno lontane quindi sono veramente molto vicine e come vedete eccoci qua siamo arrivati qua e boom come vedete le abbiamo consegnato il veicolo e boh la vendita è finita quindi come vedete più 60 mila dollari come vedete la vendita è stata completata veramente facilmente quindi come vedete 60 mila dollari in pochissimo tempo fate questo metodo come secondo metodo invece cosa vi consiglierei se avete l'autofficina potete tranquillamente come vedete completare uno di questi tre colpi che con uno di questi tre colpi come vedete potete ottenere esattamente comunque in quello del FBI potete ottenere esattamente fra i 182 mila dollari le missioni sono veramente facili da completare e potete ottenere questi 182 mila dollari veramente in pochissimo tempo quindi l'officina è veramente un buonissimo metodo in questo nuovo DLC per ottenere soldi veramente facili e veloci comunque ragazzi il video è finito per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video ciao 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 But first...